buongiorno e ben ritrovati a voi tutti cari amici sono sempre il sottoscritto Nicola De Lucia ebbene quando c'è Sanremo bisogna parlare di Sanremo e quindi facciamo il resoconto della prima serata allora regia prima serata per quanto riguarda i big allora la prima cantante che si esibite state rene grandi con finalmente io al momento in posizione numero quattro poi Marco Masini con il confronto quinta posizione terza Rita Pavone niente resilienza settantaquattro decima posizione Achille Lauro con me ne frego nona posizione quinto Diodato fai rumore in terza posizione sesto le vibrazioni dov'è prima posizione settimo Anastasio con rosso di sabbia classificato al momento ottavo ottavo Elodie o Elodie non so come si pronuncia Andromeda seconda posizione nono Big Bugo e Morgan sincero in dodicesima posizione decimo Big Alberto Urso e il sole ad est sesta posizione undicesimo Righi lo sappiamo entrambi undicesima posizione dodicesimo Raffaele Gualassi con Garioka in settima posizione per quanto riguarda le nuove proposte il primo confronto tra Eugenio in via di gioia versus Tecla in sole è stata vinta da quest'ultima con la canzone 8 marzo rispetto al gruppo con Tsunami l'8 marzo ha avuto il 50,6 per cento di share Tsunami ha avuto il 49,4 per cento di share scusate di share sono convusto delle dati di ascolto che vi rendono noto tra poco secondo confronto fadi versus Leo Gassman ha vinto Leo Gassman con va bene così 54 per cento fadi 46 per cento ospiti rosario della prima serata rosario fiorello diziano ferro con le musiche nel blu dipinto di blu almeno tu nell'universo accetto miracoli romenia junior carrisi power albano romina power nostalgia canaglia la sipe ci sarà felicità raccogli l'attimo il cast del film gli anni più belli per francesco favino kim rossi stuart claudio sandamaria michela ramazzotti emma marrone alma nos francesco cendorame andrea pittorino riccardo mororizzi morossi e tu come stai gabriele mucino emma marrone stupida allegria non è l'inferno arriverà ama mi fortuna antonio maggio e gessica notaro la faccia e il cuore prima serata dove oltre al conduttore amadeus è stato accompagnato per quanto riguarda le vallette da rula jebrel e da diletta leota questa sera seconda serata laura chimenti emma da quino e sabrina salerno bene andiamo con i dati di ascolto direi molto soddisfacenti perché la prima serata del festival di sanremo ha totalizzato vediamo un po il 52,2 per cento di inserro con con 10 milioni e 58 mila telespettatori davanti alla tv vediamo qui ci sono la regia mi da altri dati per esempio nella prima parte 12 milioni 841 mila spettatori nella seconda 5 milioni 698 mila qui dice anche miglior risultato in share dal 2005 quindi la qualità dei cantanti anche alta che dire buona seconda sera da tutti e forse il festival di sanremo che venga il migliore o la migliore ciao